Ieri pomeriggio Gigi Proietti è stato ospite di Cristina Parodi alla vita in diretta, dove ha accolto l'occasione per ricordare e di guardare la fiction Rai Una pallottola nel cuore, la cui prima puntata è stata trasmessa proprio ieri sera. Il grande maestro ha raccontato alla Parodi i ricordi del passato, sempre sul palcoscenico insieme ai suoi pupilli come Insin, Brignano o Gabriele Cirilli. La conduttrice poi gli ha chiesto perché non avesse mai pensato ad un programma tutto suo sul Rai Uno. Il comico ha ammesso di aver paura, uno one man show sul Rai Uno? Me lo chiedono ma si è già fatto un po' tutto, ha spiegato, anche se mi piacerebbe sistemare il mio repertorio, vorrei racchiudere in questo possibile programma ciò che ho fatto nella mia carriera, chissà. Sicuramente sarebbero milioni gli spettatori incollati al piccolo schermo per vedere uno dei personaggi più amati di sempre.